Parla di Giostra del Saracino e è illustrato da due bambine che sono Letizia e Ginevra Bindi e quindi è una storia di un nonno che racconta, prima di andare a letto, una sua versione un po' rodariana della Giostra del Saracino di Arezzo. È un testo leggero, divertente, come devono essere i testi dedicati all'infanzia. La Giostra del Saracino raccontata ai più piccoli nel libro di Alessandro Boncompagni dai nonno raccontaci una storia. Una pubblicazione nata per promuovere la manifestazione storica retina tra le giovani generazioni anche grazie alle 18 tavole a colori disegnate a quattro mani dalle due sorelline. Un testo che adesso sarà presentato alla città. La presentazione ufficiale la facciamo all'auditorium Aldo Ducci qui in Palazzo Comunale domenica 5 novembre alle ore 17, preceduta da una breve visita al Museo della Giostra qui in Palazzo. E poi replicheremo il sabato successivo 11 di novembre alla libreria Feltrinelli all'interno del festival Meno Alti dei Pinguini. Ci ospitano volentieri appunto trattandosi di un testo proprio per i bambini piccoli. I proventi dell'iniziativa saranno interamente devoluti alla Fondazione Meglier di Firenze.